Graniti Fiandre è un'azienda molto importante del settore ceramico, anche quest'anno in fiera crediamo di poter davvero dire la nostra. Abbiamo presentato per il terzo anno consecutivamente queste grandissime lastre che partono dal formato 1,5 x 3 per scendere anche a tutti i sottoformati che possono essere anche più commerciali. Quest'anno in particolare presentiamo un cambiamento importantissimo perché per andare incontro al mercato abbiamo fatto un investimento di oltre 8 milioni di euro nel comprensorio di Castellarano dove faremo la lavorazione su misura di tutte le lastre per il singolo cliente e il singolo ordine. Quindi non lavoriamo più sul prodotto generico ma davvero creiamo oramai un servizio tailor made sull'ordine che il cliente ci richiede quindi anche formati particolari, prodotti particolari ovvio per determinate quantità. Però crediamo che oggi il segreto sia andare incontro al mercato. Io amo dire che Graniti Fiandre è un'azienda che ha la grande vocazione per l'architettura e non è più solo l'architettura come è sempre stato che ispira Graniti Fiandre ma oggi è anche Graniti Fiandre che dà un'ispirazione all'architettura. Per noi le lastre sono diventate una seconda pelle, non sono più solo un pavimento, un rivestimento ma sono veramente diventate una pelle che può andare a coprire qualsiasi oggetto d'arredo, un tavolo, una cucina, le ante di una cucina, qualsiasi progetto importante. Quindi cerchiamo anche noi di dare ispirazione a tutti gli architetti che avranno il piacere di venirci a visitare. Grazie